E' stata premiata ben due volte la cooperativa agricola Agri Cleolis di Paluzza in occasione della 44esima mostra al mercato del formaggio e della ricotta di Malga di Enemonzo, a cui ha collaborato anche l'ERSA, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale e il Caseificio Sociale Val Tagliamento di Enemonzo. I due premi ricevuti dalla cooperativa agricola Agri Cleolis sono stati il primo premio nella categoria ricotta fumigata di Malga per la ricotta di Malga Lavarete Paluzza e il casaro Davide Flora e un secondo premio nella categoria formaggio caprino di Malga sempre per i prodotti di Malga Lavarete, questa volta con la casara Anna Mella.